carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a Maria di Magdala il suo itinerario di fede e santificazione conversione fede e santificazione come raccontato negli scritti meravigliosi di Maria Valtorta ci siamo lasciati la volta scorsa con il padre di Magdala che esterna il suo grande amore per Gesù e per suo fratello Lazzaro come sappiamo gravemente malato e abbiamo visto entrambe le sorelle e Lazzaro stesso desiderare tanto la guarigione da parte di Gesù e Gesù che chiaramente sapeva bene quello che avrebbe dovuto fare impossibilità da farlo perché così voleva il volere dell'altissimo che avrebbe riservato la guarigione di Lazzaro non ad un miracolo quando era in vita ma come tutti i santi sappiamo alla strepitosa risurrezione dopo quattro giorni dalla morte il più grande miracolo l'ultimo quindi il sigillo sulla divinità di Gesù anche se poi come sappiamo dai Vangeli è stato ciò che ha sancito la sua definitiva condanna a morte a causa dell'invidia di iscrivi e farisei bene proseguiamo oggi con un nuovo capitolo che è intitolato così abbastanza significativa emblematica per amore è serva e per amore è padrona come sempre qui c'è un piccolo trafiletto in corsivo che ambienta un po' quello di cui andiamo parlando Gesù fa sosta al Gezzemani in una casetta che è anch'essa di proprietà di Lazzaro ma per radunare e distruire le molte discepoli presenti a Gerusalemme scegli il palazzo che Giovanna di Cusa possiede nella città il palazzo si presta per un grande convito che viene allestito per tutti i poveri una lieta operosità empie la casa dalle cantine al tetto chi va chi viene con cibi e su pellettili con fasci di vesti con sedili accompagnando ospiti rispondendo a chi interroga tutti con le tizie e amore oh rabboni mio grida la maddalena che corre fuori da una stanza con le braccia cariche di fasce e camiciole per i pargoli e la sua voce vellutata d'organo d'oro empie il viale ombroso sotto cui sono festoni di rose Maria Dio sia con te dove vai così di fretta oh ho dieci pargoli da vestire li ho lavati e ora li vesto e poi te li porterò freschi come fiori Fuggo maestro perché li senti sembrano dieci agnellini belanti e corre via ridendo splendida e serena nella sua semplice e signorile veste di candido lino stretta alla vita da una cintura sottile d'argento i capelli stretti in un semplice nodo sulla nuca sorretti da un nastro bianco che si annoda la fronte come è diversa da quella che era sul monte delle beatitudini esclama Simone lo zelote Gesù circola fra le tavole non lascia nessuno senza conforti di parole di aiuto sfiora così più volte le regali Claudio e Plautina che di messe spezzano il pane o portano il vino alle labbra dei cechi dei paralitici dei monchi sorride alle sue vergini che si occupano delle donne alle madri di scepole tutte pietose presso gli infelici a Maria di Magdala che si prodiga ad una tavolata di vecchioni da più triste di tutte piena di tossi di tremiti di mascelle sdentate che vi ascicano e di bocche che sbavano ci picchia e aiuta Matteo che palleggia un infante che si è fatto andare per traverso una mollica di focaccia che succhiava e mordeva coi dentini novelli complimenta Cusa e sopraggiunto al principio del pasto scalca le carni e serve come un servo provetto giunge alla notizia e portarla da Giuda che l'ha saputo in segreto che i nemici di Gesù lo stanno cercando al Gezzemani per prudenza le sorelle Marta e Maria gli offrono come alloggio più sicuro il palazzo che Lazzaro possiede in città e in esso si trasferiscono spaventati quanti erano venuti con lui per la Pasqua qui ricomincia a scrivere Maria Valtorta non brillano certo per il loro eroismo i seguaci di Gesù la notizia portata da Giuda è simile all'apparizione di uno sparviero su un'aia piena di pulcini o di un lupo sul ciglio prossimo a un gregge spavento o perlomeno orgasmo sono su almeno nove decimi dei volti presenti e specie dei volti maschili io credo che molti hanno già l'impressione del filo della spada o del flagello contro l'epidermide e il meno che pensano di avere a provare le segrete delle carcere in attesa di processo le donne sono meno agitate più che agitate sono impensierite per i figli o i mariti consigliano questi o quelli di squagliarsi a piccoli gruppi spargendosi nelle campagne ecco qui Maria di Magdala insorge contro quest'onda di timore esagerato dicendo oh quante gazzelle sono in Israele ma non vi fa vergogna tremare così vi ho detto che nel mio palazzo sarete più sicuri che in una fortezza venite dunque e sulla mia parola vi assicuro che non vi accadrà nulla di nulla se oltre ai designati da Gesù ve ne sono altri che pensano essere sicuri nella mia casa vengano ci sono letti e lettucci per una centuria andiamo decidete in luogo di basire di paura soltanto prego Giovanna di farci seguire dei servi con delle cibarie perché in palazzo non ce n'è per tanti ed è sera ormai un buon pasto è la miglior medicina per rinfrancare i busilli e non è solo imponente nella sua veste bianca ma è abbastanza ironica negli occhi splendidi mentre dall'alto della sua statura guarda il greggio spaurito che si pigia nel vestibolo di Giovanna il palazzo di Lazzaro è certo su una delle tante elevazioni del suolo che fanno delle vie di Gerusalemme non sale e scendi continuo specie nelle meno belle quasi al centro della città ma lievemente spinto verso sud ovest collocato su una bella strada che sfocia sul sisto formando con essa un T domina la città bassa avendo di fronte Bezeta Moria e Ofel e dietro ad essi la catena dell'Uliveto sul dietro e già appartenente al posto dove sorge il monte Sion mentre ai due fianchi l'occhio spazia a sud verso i colli meridionali mentre al nord Bezeta nasconde molta parte di panorama ma oltre alla valle di Ghion la testa calva del Golgoth emerge giallastra nella luce rosea dell'aurora lugubre sempre anche in questa luce di Eta Gesù la guarda il suo sguardo benché più venire e più pensoso mi ricorda quello della lontana visione di Gesù XII nella visione della disputa con i dottori ma ora come allora non è uno sguardo di terrore no è un dignitoso sguardo di eroe che guarda il suo campo di estrema battaglia poi si volta a guardare i colli a meridione della città e dice la casa di Caifa e con lo sguardo segna tutto come tutto un itinerario da quel punto al Gezzemani e poi al tempio e poi ancora guarda oltre la città verso il Calvario il sole intanto è sorto del tutto e la città si accende di luce al portone del palazzo dei colpi vigorosi vengono dati senza mettere sosta fra l'uno e l'altro Gesù si sporge per vedere ma il cornicione molto sporgente mentre il portone è molto rientrante nelle pareti massicce gli impediscono di vedere chi bussa in compenso sente subito il vocio dei dormienti che si destano mentre il portone aperto da lei viene rinchiuso con fragore e poi sente il suo nome gridato da tante voci di uome e di donna si affretta a scendere dicendo eccomi che volete coloro che lo chiamavano non appena lo sentono prendono d'assalto la scala salendo di corsa e vociando sono gli apostoli e dicevoli più antichi e fra mezzo di loro è Giona il conduttore del Gezzemani parlano tutti insieme e non si capisce nulla Gesù deve imporre con violenza che si fermino dove sono e facciano silenzio per poterli calmare li raggiunge subito dicendo che avviene altro subbuglio fragoroso inutile perché è comprensibile dietro agli urlanti si affacciano volti mesti o stupefatti di donne e di discepoli parli uno per volta tu Pietro per primo è venuto Giona ha detto che erano in tanti che ti hanno cercato dappertutto lui è stato male tutta la notte poi all'apertura delle porte è andato da Giovanna e ha saputo che eri qui ma come facciamo la Pasqua la dobbiamo pur fare Giona del Gezzemani riforsa la notizia dicendo si mi hanno anche maltrattato io ho detto che non sapevo dove eri che forse non tornavi ma hanno visto le nostre vestri e hanno capito che tornate al Gezzemani non mi fare del male maestro io ti ho sempre ospitato con amore e questa notte ho patito per te ma ma non avere paura dice Gesù non ti metterò più in pericolo d'ora in poi non sosterò più in casa tua mi limiterò a venire di passaggio nella notte a pregare non me lo puoi vietare Gesù è dolcissimo verso lo spaurito Giona del Gezzemani ma la voce d'oro di Maria di Magdala prorompe veemente da quando uomo ti dimentichi che sei servo e che la condiscendenza nostra ti fa usare modi da padrone di chi è la casa e l'uliveto solo noi possiamo dire al rabbì non andare a fare dare ai nostri beni ma non lo diciamo perché sommo bene sempre sarebbe se anche per cercare lui i nemici del Cristo distruggessero piante mura e persino facessero franare le balze perché tutto sarebbe distrutto per aver ospitato l'amore e l'amore darebbe amore a noi sui fedeli amici ma vengano distruggano calpestino e che fa basta che egli ci ami e sia illeso Giona è preso fra la paura dei nemici e quella dell'ardente padrona e mormora e se mi fanno del male al figlio Gesù lo conforta non temere ti dico non sosterò più puoi dire a chi te lo chiede che il maestro non abita più al Gezzemani no Maria così è bene fare lasciami fare io ti sono grato della tua generosità ma non è la mia ora e non è ancora la mia ora suppongo fossero farisei e sinedristi e erodiani e sadducei e soldati di erode e tutti tutti non mi levo il tremito della paura però lo vedi signore sono corso ad avvisarti da Giovanna poi qui l'uomo ci tiene a far notare che a rischio della sua pace ha fatto il suo dovere verso il maestro Gesù sorride con compatimento e bontà e dice lo vedo lo vedo Dio te ne compensi ora vai in pace a casa tua ti manderò a dire dove mandare le borse o manderò a ritirarle io stesso l'uomo se ne va e nessuno meno Gesù e Maria Santissima lo risparmia di rimproveri o scherni salato è quello di Pietro salatissimo quello dell'iscariota ironico quello di Bartolomeo Giuda Taddeo non parla ma lo guarda in un tal modo e il mormorio e gli sguardi di rimprovero lo accompagnano anche tra le file delle donne terminando nel razzo finale di Maria di Magdala la quale all'inchino del servo contadino risponde riferirò a Lazzaro che per il convito di festa venga a procurarsi i polli ben ingrassati nelle terre del Gezzemani non ho pollaio padrona tu Marco e Maria tre magnifici capponi ridono tutti per l'uscita inquieta e significativa di Maria di Lazzaro che è furente di vedere la paura nei suoi dipendenti e per il disagio del maestro privato del quieto nito del Gezzemani non ti inquietare Maria pace pace non tutti hanno il tuo cuore oh no purtroppo avessero tutti il mio cuore Rabboni neppure le lance e le frecce a me dirette mi farebbero separare da te un mormorio fra gli uomini Maria lo raccoglie e risponde pronta si lo vedremo e speriamo presto se questo può servire a insegnarvi il coraggio niente mi farà paura se io posso servire il mio rabbi servire si servire e si serve nelle ore pericolose fratelli nelle altre o nelle altre non è servire godere e il messia non va seguito per godere mi devo fermare un attimo perché ho letto parecchio non è che c'è molto da commentare no c'è solo da considerare la personalità il carattere di questa straordinaria donna oh io sinceramente insomma quando la sento parlare in questo modo fermo restando ovviamente che sono felicissimo del mio sacerdozio per carità di Dio no però sono preso anche io insomma di di ammirazione non neanche di una certa compiacenza ecco perché sapete come dice il proverbio popolare no similes cum similibus io se sarei andato d'accordissimo con una con una discepola del del genere sottoscrivendo in toto quello che dice e anche questa impetuosità diciamo così questo questo zelo che poi si trabuta anche in sdegno verso verso questi omuncoli omuncoli vili la viltà generalmente è cosa che ripugna e repelle in maniera abbastanza forte a certi spiriti e suscita appunto sdegno come come Maria di Magdala è una cosa veramente brutta ecco l'aviltà la paura quindi il comportamento di quel di quell'uomo fa veramente pena ci vuole soltanto la carità di Gesù e di Maria per per non dire nulla infatti abbiamo sentito che tutti quanti li epitetano e Maria di Magdala li proprio li proprio asfalta insomma alla grande no e professa poi questa bellissima cosa dice attenzione questi non erano bellissimo Gesù che interviene dicendo pace Maria non tutti hanno il tuo cuore quindi un cuore appare chiaramente questo mi viene in mente quello che diceva Santa Teresina un cuore bruciato dall'amore un cuore e quando l'amore quando c'è l'amore l'amore va in capo al mondo a fare qualunque cosa è l'amore la molla che ci tira dovunque no è la cosa più grande è la virtù più grande la carità è anche la passione più forte l'amore tra poco nel ciclo di catechesi il mistero dell'uomo spero che potremmo arrivare a studiare anche le passioni umane e la prima passione è l'amore l'amore è anzitutto una passione una passione vuol dire qualche cosa noi la chiamiamo nel linguaggio comune il sentimento quindi qualche cosa che non è razionale c'è e ti attrae fortissimamente verso qualcosa poi è chiaro che la volontà lo prende questo sentimento e lo sublima e lo rafforza e lo come dire lo lo cementa lo fa diventare qualcosa di veramente grande in forza del quale si fa qualunque cosa quando una persona ama la forza sappiamo Gesù disse già davanti a Simono il fariseo le sono perdonati sui molti peccati perché ha molto amato ma l'Edi Magda l'ha visto per il primo Gesù risorto non perché ha creduto perché l'aveva persa pure lei la fede la fede l'ha mantenuta soltanto Maria Santissima però persa la fede era rimasto l'amore però era rimasto l'amore 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 lo vedremo anche poi cioè i proclami che qui fa mentre San Pietro poverino io vengo alla morte vengo alla galera vengo alla pigione con te e Gesù gli dice Pietro non canta il gallo che tu mi rineghi tre volte anche qui Maria Di Magda la fa i proclami non tutti hanno il tuo cuore probabilmente un mormorio tra gli uomini quando lei dice neppure le lance e le frecce a me dirette mi farebbero separare da te vedremo e lei raccoglie sì lo vedremo e speriamo presto se questo può servire a insegnarvi il coraggio niente mi farà paura se io posso servire il mio rabbino l'amore fa vincere anche la la paura quello c'è la paura quello lì si è visto tutta sta masnata di scalmanati di gente disposta a tutto tra parisei erodiani sinedristi abbiamo sentito che rassegna che fa di tutti i soldati di erode eccetera e Maria di Magdala il programma che fa e poi lo mantiene lo mantiene non è superbia perché lo mantiene niente mi farà paura se io posso servire il mio rabbino servire e si serve nelle ore pericolose fratelli nelle altre non è servire a godere c'è ragione c'è ragionissima allora qui dobbiamo parlare da Maria di Magdala a non avere paura a schierarci con il Signore a stare apertamente dalla sua parte anche quando si rischia ecco Maria di Magdala è sempre tutta tante queste cose proseguo per questo paragrafo abbastanza abbastanza lungo non è ancora finita gli uomini chinano il capo punti da queste verità guardate che gli uomini però fa tutti i canti una pessima figura tranne qualcuno Maria fende le file e viene di fronte a Gesù che decidi maestro e parascepe dove è la tua Pasqua ordina e se tanto ho trovato grazie presso di te concedimi di offrirti un mio cenacolo e di pensare a tutto Gesù risponde grazie hai trovato presso il padre dei cieli grazie perciò presso il figlio del padre al quale è sacro ogni movimento del padre ma se accetterò il cenacolo lascia che al tempio a sacrificare l'agnello vada io da buona israelita e se ti prendono dicono in molti non mi prenderanno nella notte nell'oscurità come usano i ribaldi possano osarlo ma in mezzo alle turbe che mi venerano no non diventatemi vili dice Gesù non diventatemi vili e con questo e con questo Gesù dà una lezione a tutti quanti questi volevano che non andasse al tempio ad offrire l'agnello per la vasqua per non essere preso eh no eh eh no Gesù come ben sappiamo si è sottomesso alla legge dell'antica alleanza legge che lui stesso tra l'altro aveva dato insieme col padre con lo spirito santo fino a quando non ha stabilito la nuova e ha stabilito la nuova come tutti sappiamo nell'ultima cena dicendo le parole questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza quindi quello è il momento in cui cessa diciamo così l'efficacia e il vigore dell'antica alleanza e comincia quella della nuova ma fino a quel momento vedete anche Gesù che è il grande esempio che ci dà non è rispettata l'antica alleanza e se l'antica alleanza diceva che bisogna andare al tempio a Pasqua a sacrificare all'agnello il maschio deve farlo di persona poi bisogna farlo bisogna e che faccio non vado perché ho paura che mi arrestano non mi diventate mi vili perché capite ma questo sarebbe sapete la la viltà purtroppo è uno di quei vizi che sta come dire rasenta o a volte come dire si confonde con la prudenza purtroppo e questo è la grande difficoltà del discernimento ci sono alcuni vizi che sono contigui alla virtù per esempio quando si hanno atteggiamenti vili si giustifica attraverso la prudenza e no però oppure lo spilorcio non dirà mai che è spilorcio lo spilorcio dirà che non è uno spendacione che non ha le mani bucate perché i soldi non si spregano ok il temerario cioè quello che esagera perché il coraggio è una virtù la temerarietà è un difetto ma il temerario non dirà mai che è temerario quindi che va oltre ma dirà semplicemente che è coraggioso l'arte del discernimento è una cosa da impetrare continuamente al nostro signore per capire veramente cosa si muove e se quello che stiamo facendo è vizio e virtù bene proseguo la lettura e ora decidiamo dove dite essere bene consumare la Pasqua voglio che siate in pace di spirito per questa cena di rito per sentire Dio che non si sente nel turbamento siamo molti ma non sarebbe dolce stare tutti insieme per potervi far dire consumammo una Pasqua con lui no scusate che forse ho detto male ma mi sarebbe dolce stare tutti insieme per potervi far dire consumammo una Pasqua con lui scegliete dunque un luogo dove suddividendomi secondo il rituale di modo da formare gruppi sufficienti a consumare ognuno il proprio agnello si possa però dire eravamo uniti e l'uno sentiva la voce dell'altro fratello chi nomina questo e chi quel luogo ma le sorelle di Lazzaro la vincono oh signore qui manderemo a prendere il fratello nostro molte sono le sale e le stanze staremo insieme e secondo il rito accetta signore il palazzo ha stanze atte per almeno 200 persone divise per gruppi di 20 e tanti non siamo facci liete signore per Lazzaro nostro così triste così malato le due sorelle piangono finendo che non si può pensare che mangi un'altra Pasqua che dite che pensate concedere alle sorelle buone dice Gesù interpellando tutti io direi di sì dice Pietro io pure dice l'Iscariota e molti altri chi non parla assente provvedete allora noi andiamo al Tempio a mostrare che chi è sicuro di obbedire all'Altissimo non ha paura e non è vile andiamo a chi resta la mia pace e Gesù scende il resto della scala traverso il vestibolo ed esce con i discepoli nella via piena di folla allora prima di passare al paragrafo seguente se abbiamo ancora un po' di tempo due cose di quello che ha detto Gesù primo Dio non si sente nel turbamento questa è una grandissima massima comunissima ecco nella teologia spirituale ascetica nel turbamento Dio non si sente quando ci sentiamo turbati il turbamento non viene nemmeno da da Dio il turbamento viene dalle nostre male passioni non da Dio e poi andiamo al Tempio a mostrare che chi è sicuro di obbedire all'Altissimo non ha paura e non è vile qui ricordo l'ho letto tante volte chi segue un pochino gli interventi che faccio ecco quel bellissimo passaggio che si legge nel testo del padre Francesco Abamonte la Vergine Maria il diavolo negli esorcismi testo un po' datato c'è qualche annetto non so se si trova ancora in giro se hanno fatto le ristampe se si trova in giro ancora dove quest'uomo che adesso è diventato credo che sia ancora il presidente è cambiato da poco il presidente dell'associazione internazionale degli esorcisti ma lo è stato per diverso tempo allievo di padre Amort quindi uno che abbastanza esperto scrisse questo libretto raccogliendo alcune testimonianze lasciate da Satana a me quella che ha colpito di più su Maria Santissima più di ogni altra è che ha definito Maria come con lei che non ha mai avuto paura mai sapete che significa mai mai ha avuto paura nemmeno sotto la croce dice mai la paura non è una cosa che viene cioè l'amore perfetto dice San Giovanni vince pure il timore di che cosa dobbiamo avere paura ci ammazzano a Gesù lo avrebbero ammazzato se uno obbedisce a Dio e fa quello che Dio vuole se ti ammazzano quindi ci starà da rendere la testimonianza del martirio viva Dio e il signore ci darà la forza è il signore che combatte lotta e vince nei suoi martiri non siamo noi che combattiamo è chiaro che se uno pensa al martirio chi legge tutti i giorni il martirologio a volte ci stanno delle come dire delle delle scene veramente raccapriccianti impressionanti e uno si chiede ma come hanno fatto questi ad affrontare una roba del genere hanno fatto hanno fatto hanno fatto con la forza che viene da Dio che non è affatto uno scherzo no? allora passiamo al paragrafo adesso seguente che si intitola bene amata perché sa amare totalmente quando Gesù entra nel palazzo lo vede invaso da una turba di servi venuti da Betania i quali si affrettano nei preparativi Lazzaro sdraiato su un lettuccio è molto sofferente saluta con un pallido sorriso il suo maestro che si affretta verso di lui e che si china tutto amore sul suo lettuccio dicendo è molto sofferto non è vero amico mio con le scosse del carro molto maestro risponde Lazzaro sfinito tanto che solo a rivocare ciò che ha provato ha da capo negli occhi le lacrime per colpa mia perdonami Lazzaro prende una delle mani di Gesù e se la porta al viso ci strofina contro la guancia scarnita la bacia e mormora oh non per colpa tua signore e sono tanto contento che tu faccia con me la Pasqua la mia ultima Pasqua se Dio vorrà nonostante ogni cosa gli dice Gesù tu ne farai molte ancora Lazzaro e sempre il tuo cuore sarà con me oh io sono finito tu mi conforti ma è finita e mi spiace e piange lo vedi signore Lazzaro non fa che piangere dice pietosa Marta digli che non lo faccia si sfinisce la carne ha anche i suoi diritti dice Gesù la sofferenza è penosa Marta e la carne piange ha bisogno di questo sfogo ma l'anima è rassegnata non è vero amico mio la tua anima di giusto fa volentieri la volontà del Signore si dice Lazzaro ma io piango perché tu essendo così perseguitato non potrai assistermi nella morte ho ribrezzo ho paura di morire se ci fossi tu non l'avrei tutto ciò mi rifugierei nelle tue braccia mi addormenterei così ma come farò come farò a morire senza avere moti contro l'ubbidienza a questa tremenda volontà su via non pensare a queste cose vedi fai piangere le sorelle il Signore ti aiuterà così paternamente che tu non avrai paura paura devono averla i peccatori sentite che dice Gesù chi è che c'ha paura chi è che deve anzi avere paura i peccatori paura della morte tanta devono averne i peccatori i peccatori ovviamente impenitenti perché se si muore essendo peccatori impenitenti per chi il Signore viene come un ladro come fa a capire dalle parabole evangeliche dove parla di questi argomenti per chi mangia beve e si ubriaca per chi approfittando del fatto che sembra che non torni mai dice vabbè tanto non torna diamoci alla pazza gioia quelli devono avere paura ma gli amici di Gesù che devono avere paura amici noi abbiamo paura di morire qualcuno di noi ha paura di morire qualcuno di noi non c'è non c'è il timer attivato la morte non è la fine della vita è l'inizio della vita vera e finalmente andremo a vedere il nostro Signore a vedere la Madonna sì sì dobbiamo facer il purgatorio e sicuramente però se moriamo in grazia già è qualcosa no perché la morte almeno cessa il rischio della possibilità della dannazione il che già è un bel traguardo no poi starà verso il proprio purgatorio e ce lo faremo pazienza e poi capite che cos'è la vita eterna niente paura no paradiso è bello amici cari quindi molto più bello di questa valle di lacrime per carità paura devono averle peccatori quindi ricordiamo questa cosa qui paura turbamento proseguo la lettura Lazzaro riprende ma se tu puoi venire ci viene la mia agonia promettimelo te lo prometto questo è più ancora dice Gesù mentre preparano raccontami ciò che hai fatto questa mattina e Gesù seduto sull'orlo del lettuccio una delle scarne mani di Lazzaro nelle sue racconta per fila e per segno tutto quanto è accaduto finché Lazzaro sfinito si sopisce e Gesù non lo lascia neppure allora sta immobile per non turbare quel sonno riparatore facendo segno che si faccia il meno rumore possibile tanto che Marta dopo aver portato il ristoro a Gesù si ritira in punta di piedi calando la tenda pesante e chiudendo la porta massiccia il rumore della casa tutta in moto si attutisce così in un brusio appena sensibile Lazzaro dorme Gesù prega e medita passano le ore così finché Maria di Magdala viene a portare una lampadetta perché la sera scende e vengono chiuse le finestre dormi ancora? sussurra si è molto chieto gli farà bene da mesi non dormiva tanto credo che molto lo tenesse agitato il timore della morte con te vicino non c'è paura di nulla lui fortunato perché Maria? perché lui potrà averti vicino nel morire ma io perché tu no? perché tu vuoi morire presto e io chissà quando morirò fammi morire prima di te maestro no dice Gesù tu mi devi servire e pertanto ancora e allora ho ragione di dire che Lazaro è fortunato dice e Gesù ribatte i beneamati saranno tutti fortunati come lui più di lui dice Maria e chi sono i puri e Gesù risponde coloro che sanno totalmente amare tu per esempio Maria oh mio maestro Maria scivola a terra sulla stuoia multicolore che copre il pavimento di questa stanza e sta lì in adorazione del suo Gesù Marta cercandola mette dentro il capo vieni dunque dobbiamo preparare la sala rossa per la cena del Signore no Marta dice Gesù quella la darete più umile i contadini di Giona ad esempio e Marta ma perché maestro perché i poveri sono tanti Gesù e io sono in essi onorate sempre il povero che nessuno ama se volete essere perfette per me preparerete nell'atrio tenendo aperte le porte delle molte stanze che danno in esso tutti mi vedranno ugualmente ed io tutti vedrò Marta non è troppo soddisfatto io obietta ma tu in un vestibolo non è degno di te va va fa ciò che ti dico è degnissimo fare ciò che il maestro consiglia Marta e Maria escono senza far rumore e Gesù resta paziente a vegliare l'amico che riposa ecco anche questo episodio è bello alcune cose le abbiamo già commentate a proposito di Lazzaro adesso qui c'è da dire solo qualcosina a proposito di quest'ultimo dialogo tra Gesù e Maria Maria che vuole morire prima che Gesù parta e Gesù risponde no no ecco tu mi devi servire per tanto ancora ecco può succedere che noi potremmo avere anche se è un pochino raro adesso un desiderio un po' troppo frettoloso di morire ogni tanto è capitato ma io non vedo ma magari potessi morire subito dico sì questo il pensiero di per sé è un pensiero discreto perché vuol dire che desideri vedere il Signore ma tu sei proprio sicuro che che è cosa buona morire presto perché sei proprio sicuro che se mori subito te ne vanno in paradiso e se te fai un sacco di purgatori meglio servire il Signore perché se serviamo il Signore qui il purgatorio ce lo facciamo sulla terra e al tempo stesso ci riescono pure i meriti allora noi possiamo ben dire al Signore ah non vedo l'ora di morire ma non perché siamo depressi o perché abbiamo gli istinti suicidi per motivazioni soprannaturali però Signore mio se non è ora se ancora so sono molto imperfetti i tuoi occhi se ancora sono molte cose da purificare o se questa non è la tua volontà e mi resta pure altri duecento anni duecento duecento chiaramente mentre per i mondari campare duecento anni forse sarebbe un sogno per i cristiani questo sarebbe un sacrificio ma se il Signore ce lo chiede non c'è nessun problema ovviamente è interessante che i bene amati sono quelli sono quelli che sanno totalmente amare i puri certamente ci hanno sempre detto una marcia in più ma non è detto non è detto che questa marcia in più la usino bene no perché il cosiddetto puro quindi il vergine o la vergine bisogna vedere se amano se hanno se se stanno a proprio agio perché sono anche i vergini e le vergini forzati no quindi quelli che sono rimasti tali perché come si dice non se ne è piatti nessuno quindi non hanno come dire vissuto la verginità nella sua dimensione stupenda cioè nel fatto che ti dà le ali che ti fa mettere le ali per essere uno che sa totalmente amare riversando anzitutto proprio il cuore il fiorfiore dell'amore in Dio no il vergine non ha amori umani che legano esclusivi può anche avere degli amori come dire tra virgolette intensi grandi qui purché chi ascolta capisca che con amore non si intende quello che intende il mondo quindi è un'altra cosa ma non sono a differenza di quelle appunto di chi vive nel matrimonio non sono amori che legano no che 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 legano e che sono esclusivi perché l'amore responsabile è esclusivo è perché si ama la sposa o lo sposa in una maniera tale come non si ama nessun altro non si deve amare nessun altro come si ama lo sposa e la sposa quindi è per definizione esclusivo invece l'amore virginale quando si riversa verso il prossimo è inclusivo il vergino non si può legare in maniera come dire esclusiva a qualcuno cioè io sto con questo qualcuno escludo gli altri assolutamente non è possibile non può e non deve e ogni tipo tra virgolette di brackets proprio fino all'esaurimento di legame che non è corretto chiamarlo legame umano deve essere sempre vissuto nella più assoluta libertà senza spirito di possesso senza spirito di gelosia né in uscita né in entrata legge assoluta però queste cose non sono conseguenze immediata e diretta dello stato di purezza così come non sono totalmente inibite da uno stato di impurità come era quello da cui proveniva Mederi Magdala perché troncato con il passato pentita gli rimane questa grandissima capacità d'amore che come sappiamo lei nella sua giovinezza ha scialato in giro a destra a sinistra e quella come appare già evidente da questo che abbiamo già visto da un certo momento in poi è completamente riversata verso Gesù in particolare che è il suo Salvatore e l'avrebbe portata a delle vette inimmaginabili quindi questo è molto importante tenerlo presente e considerarlo sto vedendo se si possiamo fare l'ultimo paragrafetto abbiamo ancora un pochino di tempo questo è molto breve si è anche sentito redenta per le sofferenze del fratello nel palazzo di Lazaro a Gerusalemme dove è stata consumata la cena rituale per la Pasqua si parla degli ultimi miracoli parati da Gesù siamo sempre in questo contesto quindi stasera è stata caratterizzata proprio da dalla meditazione di questo evento quindi questa Pasqua l'ultima prima dell'ultima diciamo così vissuta in questo modo ecco quindi con nella tenuta di Lazaro e di Maria alla presenza di tutte e tante le persone care al Signore no il Signore giunge sempre in tempo per salvare dice Mirta madre di Abbele di Betlemme il mio non era meno prossimo a morte e a che morte del piccolo di Torca ma egli è giunto e ha salvato che ora tremenda Mirta impallidisce ancora nel ricordo allora verrà in tempo anche per me è vero per darmi la pace dice Lazaro carezzando la mano di Gesù ma non stai è un poco meglio fratello mio chiede Marta da ieri mi sembrai più sollevato sì e me ne stupisco io stesso forse Gesù no amico dice Gesù è che io verso intera mia pace la tua anima ne è satura e ciò sopisce il soffrire delle membre è decreto di Dio che tu soffra attenzione a questa frase e muoia dillo pure ebbene sia fatta la sua volontà come tu insegni da questo momento non chiederò più guarigione né sollievo ho tanto avuto da Dio e guarda involontariamente Maria sua sorella che è giusto che ricambi il tanto avuto con la mia sottomissione fa di più amico mio gli dice Gesù già molto è essere rassegnati e subire il dolore ma tu dà adesso un valore maggiore e quale mio signore offrilo per la redenzione degli uomini fermiamoci perché dopo ci sono altre cose interessanti quindi numero uno è decreto di Dio che tu soffri vedete Lazzaro il miglior amico di Gesù è decreto di Dio che tu soffra e Gesù lo lascia soffrire la sofferenza la sofferenza fisica in molti casi è da leggere come decreto di di Dio solo che aspetta a noi santificare la sofferenza perché la sofferenza di per sé è una cosa negativa è una cosa che appunto porta angoscia paura ribellione a volte si comincia dalla sottomissione e dall'essere rassegnati però poi ci sta una gradualità il dolore si può anche accettare e il dolore si può offrire poi nelle vette più alte Santa Veronica Giuliani per esempio Docet il dolore si può anche chiedere desiderare per il desiderio di essere perfettamente conformi allo sposo celeste che questo ha avuto sulla terra e Gesù gli insegna almeno ad arrivare allo step del dolore offerto per la redenzione degli uomini al che Lazzaro ribatte ma sono un povero uomo io pure maestro non posso aspirare ad essere un redentore e Gesù gli risponde tu lo dici ma sei in errore non è vero Dio ci ha fatto uomo per aiutare gli uomini sentite che cosa ma gli uomini possono aiutare Dio le opere dei giusti saranno unite alle mie nell'ora della redenzione dei giusti morti da secoli viventi o futuri vedete parentesi la divina volontà i giusti morti da secoli le loro sofferenze vissuele da giusti sono unite a quelle di Gesù crocifisso e dalle sofferenze del crocifisso tragano il valore con cui sofferte a suo tempo anche secoli prima della redenzione hanno però sparso frutti di conversione santificazione in giro tu uniscivi le tue da ora è così bello fondersi alla bontà infinita senti che bel termine che usa Gesù fondersi alla bontà infinita aggiungervi ciò che possiamo dare della nostra bontà limitata e dire io pure coopero padre al bene dei fratelli non ci può essere amore più grande per il signore per il prossimo di questo saper patire e morire per dare gloria al signore e salvezza eterna fratelli nostri salvarsi per se stessi è poco è un minimo di santità bello è salvare darsi per salvare spingere l'amore fino a farsi rogo immolatore per salvare allora l'amore è perfetta e grandissima sarà la santità del generoso è qui Gesù è Gesù amici cari sale in cattedra con queste super meravigliosissime spettacolari lezioni e i volti evidentemente anche a noi saper patire e morire qui c'è l'ego di Sant'Alfonso sapete Sant'Alfonso che dice che accettare la morte è specialmente quando arriva in età un po' precoce è un grandissimo sacrificio è un atto che dice Sant'Alfonso addirittura dice che se uno fa l'offerta della morte accetta la morte e la offre come sacrificio a Dio in maniera sciente e cosciente lui dice che non si passa per il purgatorio lo dice lui non lo so se è attendibile in questo ma lo dice Sant'Alfonso come è bello tutto ciò non è vero sorelle mie dice Lazzaro con un sorriso sognante nel volto affilato Marta annuisce col capo commosso commossa Marta annuisce col capo commossa Maria che è seduta su un cuscino e viene di Gesù nella sua posa abituare di umile ardente adoratrice dice forse che io costo queste sofferenze al fratello mio dimmelo signore perché la mia ambascia sia completa Lazzaro esclama no Maria no io dovevo morire di ciò non metterti frecce nel cuore ma Gesù sincero fino all'estremo dice ma certo che sì io l'ho sentito il buon fraterno nelle sue preghiere nei suoi palpiti ma questo non ti deve dare ambascia che appesantisce bensì volontà di divenire perfetta per ciò che costi e giubila giubila perché Lazzaro per averti strappato al demonio Lazzaro interrompe non io tu maestro ma Gesù riprende per averti strappato al demonio ha meritato da Dio un premio futuro per cui di lui parleranno le genti e gli angeli e come per Lazzaro di altri e specie di altre che hanno strappato a Satana la preda con loro egoismo qui spettacolo quindi vedete come Gesù dice la verità quella Maria dice io sono costato sofferenze e morte il mio fratello certo 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 e glielo dice perché perché tu rafforzi la tua volontà di diventare perfetta per ciò che costi e noi siamo costati figlioli miei cari e che ci facciamo con il costo che è stato che facciamo e attenzione poi c'è il premio Gesù sta dicendo che Lazzaro per aver offerto anche le sue sofferenze non importa che sono venute cronologicamente dopo la conversione di Maria di Magda non fa niente Gesù dice bellissima questa espressione no io l'ho sentito il buon fratello nelle sue preghiere nei suoi palpiti l'ho sentito e dice per averti strappato al demonio Lazzaro dice no non sono nato io Gesù dice no no hai strappato tu cooperando evidentemente in maniera subordinata ma è strappata lui e per questo ha meritato da Dio un premio futuro per cui lui parleranno questo chiaramente fa riferimento Gesù in maniera velata alla prossima risurrezione di Lazzaro di cui lui parleranno tutti quanti perché un miracolo strepitoso come quello di Lazzaro non si è visto mai e tutti sanno almeno tre battezzati Lazzaro veniva vieni fuori no cioè probabilmente senza quel miracolo strepitoso insomma della risurrezione dopo quattro giorni forse Lazzaro sarebbe rimasto quasi anonimo no e invece no è ed è stato quello che è stato grande discepolo del maestro che anche lui insegna queste stesse cose perché quello che è venuto per Lazzaro questa società consolazione avviene anche di altri e soprattutto altri perché le donne sono più generose degli uomini che hanno strappato a Satana la preda con loro egoismo bene amici ci vediamo se Dio vuole alla prossima puntata che Dio vi benedica e la Santa Vergine tutti e sempre vi protegga grazie a tutti